salve a tutti ragazzi sono master wallace carico 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 no siccome qualcuno ha detto che l'altra volta non ero molto carico io ragazzi vi dico sono sempre carico quindi tre volte carico 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 per cui siamo sempre qua allora anche oggi un altro argomento interessante che vi darà motivazioni e anche informazioni generali molto utili vi invito a iscrivervi al canale ovviamente per essere sempre aggiornati stare con noi per cui mi raccomando venite con noi con la vera informazione stare il dito allora fin dove potete arrivare senza doping è una domanda che da sempre tutti i culturisti naturali si pongono e spesso questa domanda porta a grande frustrazione perché i ragazzi guardando i campioni purtroppo se da una parte si esaltano dall'altra si si deprimano perché dicono non riuscirò mai arrivare a quei livelli ma allora fino a dove possa arrivare cioè quando uno è anche consapevole del fatto che lì dietro c'è tanta tanta chimica ma tanta che manco ve l'immaginate quanta però rimane sempre questa domanda cioè ma fino a dove posso arrivare senza usare quella roba nella copertina ho messo non a caso questo confronto fra ronny collamand nei tempi migliori e master allora vi dico questo per farvi quantificare per farvi capire un po' la situazione dunque anche se dalla foto diciamo non c'è questa differenza abissale almeno questa è l'impressione vero se andiamo a guardare i numeri in realtà la differenza abissale c'è attenzione sto parlando del ronny com'era non come adesso che non c'è niente allora se vogliamo qualificare io ve lo dico subito se si tratta del rapporto altezza peso io adesso sto sui 97 però dai rotondiamo a 100 perché a volte ho toccato anche i 100 comunque ecco 100 kg poi non in condizione ultra tirata da gara ronny andava sul palco a 130 kg nei tempi migliori quindi 30 kg in più con una definizione estrema lui quando rimassa toccava anche i 140 100 150 non credo ma 140 kg sicuro e quindi vediamo che come differenza di rapporto altezza peso ci sono anche 40 40 kg differenza è tanto cioè in gara quando garezza son 30 quando non è in gara son 40 voglio dire è tanto no vogliamo prendere la misura del braccio in gara aveva sui 55 56 in massa arrivava anche a 60 io ho un 48 quindi a freddo quindi diciamo anche qui ci sono 12 cm di differenza voglio dire sono numeri che alla fine se li guardiamo sono tanti vero ci sono tanti però dipende dal punto di vista in cui noi li guardiamo cioè se riguardiamo un punto di vista puramente di comparazione è tanto ma se noi li guardiamo da un punto di vista dei contesti cioè master natura e lui ma da da sempre da anni e lui i per far i per farmacologico bombarolo da più di vent'anni quando eri in quelle condizioni allora guardate che forse questo questa sproporzione di di numeri non è poi così elevata se ci pensate bene non è poi così elevata elevata ma quello che deve darvi davvero la forza è questo se voi cavate il contesto farmacologico e per esempio mettete i numeri di master che vi ho detto io cavate non comparateli col contesto farmacologico ma con il contesto naturale allora vedete che la situazione si ribalta cioè i numeri di master sono molto alti rispetto alla media di natural è questo è questo quel che voi dovete capire no cioè se voi riuscite veramente ad arrivare dal punto di vista anche quantitativo in termini di numeri di centimetri di chili a un certo livello la differenza è tanta perché voi dovete compararvi con i natural non con i super campioni super bombati cioè loro teniamoli come esempi così metaforici no io ho spesso anche Kenny Guerriero no perché del togli ma ho sempre anche usato loro come metafore ma se mi fisso troppo con loro se mi fisso troppo con loro se da un lato mi aiuta a scalare il più possibile perché io ho sempre detto sognare l'impossibile per andare oltre la mediocrità ok però non mi devo immedesimare al 100% e dire ah così non ci arriverò mai quindi sono un fallito non è questa la mentalità sbagliata ovvio che così non ci arriverete mai ma dovete avvicinarvi più possibile allora dovete guardare dall'altra parte guardate il mondo dei natural i veri natural perché oggi lo sapete anche voi qui in youtube nei social la gente che si propone per insegnarvi il culturismo tantissimi sono dei bombaroli non necessariamente grossi ma ce ne sono tanti quindi è questo che dovete pensare se voi guardate veramente il mondo dei natural cioè il mondo della gente che frequenta le palestre i vostri amici guardatevi in giro guardate cioè guardate veramente il mondo dei natural e vi renderete conto di come il livello sia veramente basso perché c'è tanta disinformazione non si sa allenare nessuno se voi riuscite facendo le cose giuste a cominciare ad andare su arriverete a un punto che sarete sopra li guarderete dall'alto ed è questo che è importante che farà la differenza in voi stessi fisicamente, mentalmente, autostima quindi io quello che vi dico qual è il limite del doppio? adesso ve lo quantifico anche se come ho già fatto altre volte ve lo quantifico ma vorrei che capiste questo discorso qua cioè per essere motivati e capire di quanto state progredendo e di dove potete arrivare dovete guardare in basso verso la media dei natural e capirete quanto state salendo e dove potrete arrivare e li guarderete dall'alto non vi fissate troppo su di loro non sarò mai come Ronnie Comer non sarò mai come i campioni attuali Big Ramiche, ne so non sarò mai come Kevin e Ron ok, non lo sarete mai, va bene ma neanche loro sarebbero così senza le bombe mettetevelo bene in testa neanche loro sarebbero così mentre voi potete essere molto molto di più rispetto alla media dei palestrati naturali che sono la stragrande maggioranza prendiamoci chiaro perché la maggior parte del genere che è una palestra è natura, giusto? ecco, allora voi in questa stragrande maggioranza potete andare su in posizione di vertice facendo le cose giuste vogliamo quantificare io ve l'ho già detto altre volte questa dalla mia esperienza questi numeri che vi dico secondo me sono possibili da natura sono fattibili poiché uno ci arrivi o meno è da vedere ma sono fattibili potenzialmente parlando per cui se voi riuscite ad arrivare come altezza peso a un rapporto di più 10 HP quindi 10 cm sopra l'altezza lo ripeto perché non è molto avvesso questi termini se siete alti 1,75 dovreste pesare quantomeno 85 kg meglio sarebbe 90 ma stiamo diciamo una media dovreste pesare almeno 85 kg su 1,75 e attenzione sotto il 10% di grasso come forma estiva è chiaro non in massa in massa magari potete pesare anche più di 90 kg ma il percentuale di grasso sarà superiore sto parlando della condizione finale dopo anni di allenamento di bicicli di massa definizione eccetera eccetera tra l'altezza di grasso allora sotto il 10% di grasso c'è questo 10 cercate di contare questo 10 il 10 come rapporto HP sopra e il 10 sotto come rapporto di percentuale di grasso guardate che lo voglio ripetere ancora un altro con questi numeri qua è molto molto impressivo tale da far guardare le persone cioè da farsi vedere avete capito? certo non sarete come un super campione enorme che non passa dalle porte ok ma sarete veramente a un livello molto molto superiore rispetto alle medie e questo ripeto è fattibile io siccome molti mi chiedono oh ma perché qua tu parli ma i tuoi allievi chi è che ha fatto allora io lo voglio ripetere noi facciamo ogni anno le gare di posing nel gruppo c'è la classifica dei primi 10 quindi andate a vedere le foto sono tutti bei fisici abbiamo avuti alcuni veramente notevoli posso dire che qualcuno è arrivato a questi livelli qui anzi due o tre ci sono arrivati di questo famoso 10 no? e veramente i loro fisici erano davvero impressivi e possono ancora migliorare tra l'altro hanno ancora possono ancora migliorare come in generale possono andare ancora qualcosa di più ci sono anche altri ragazzi che hanno un potenziale ancora superiore e che dovrebbero riuscire a definirsi bene ma hanno un potenziale di massa e centimetri veramente superiore intanto noi lo voglio ribadire il nostro gruppo come forza c'è la gara di banca in corso abbiamo due ragazzi che hanno già toccato 150 un altro mi ha comunicato stamattina lo saluto ciao Francesco complimenti ragazzi ho fatto anche fu dimesso con me varie volte un nostro abbonato che ha fatto un 147 che è il suo record di sempre e probabilmente secondo me il fine massa arriverà a 150 cioè i nostri ragazzi migliorano perché fanno le cose giuste allora voi che cosa dovete fare io vi ho detto vi ho quantificato cosa potete fare senza doppi vi ho spiegato che guardare i campioni sì come riferimento motivazionale ma non ponetevi su di loro come meta veramente finale perché questo non è possibile quindi usatele come riferimento come come via così di motivazionale ma state coi piedi per terra e guardate la gente naturale che è molto bassa tocca a voi andare sopra e guardarli dall'alto a chiare il concetto è tutto qua ragazzi uno dice se si è giusto lo voglio fare lo faremo ma lo farete se non fate le cose giuste non ce la fate voglio dire la maggior parte della natura si allena da una vita e nessuno va a guardare sopra dall'alto più o meno rimangono tutti così quindi bisogna anche cominciare a fare le cose giuste io sono qui sempre per darvi l'esempio e per indicarvi la vera strada noi siamo certi che quello che facciamo funziona non promettiamo miracoli perché appunto non promettiamo i fisici del mistero limpio la bomba roria però diciamo che un'altra può arrivare veramente a livelli buoni sopra la media molto sopra la media e riteniamo di usare le cose giuste quindi questo è quello che ho da dirvi e spero che chi lo capisce voglia davvero agire e non perdere tempo noi abbiamo dei ragazzi ultimamente che sono venuti con noi cioè sono uomini anche molto giovani non ci sono solo ragazzi sono ragazzi ma anche uomini giovani i quali mi dico sta cosa e poi chiudo ma cercate di capire anche questo concetto e niente allora dico ma se la situazione è questa sono messo così è questa ragazzi è gente che si è allenata per anni e ha ottenuto ben poco è come gente che ha seminato ha lavorato nei campi seminando spaccandosi la schiena seminando seminando e alla fine il raccolto è stato è stato scarso per l'impegno che ci hanno messo hanno raccolto poco non va bene noi insegniamo a seminare bene così il raccolto sarà rigoglioso e quindi il messaggio che io ho detto a questi ragazzi che adesso sono con noi e già stanno migliorando e già sono contentissimi ho detto ragazzi avete perso degli anni siete ancora giovani e avete il tempo per migliorare cominciate a fare le cose giuste hanno cominciato e stanno migliorando sono contenti allora io cosa devo dire di più cosa devo fare volete come dice volete volete il sangue io questo vi dico e per questo vi aspettiamo con noi ok quindi rinnovo l'invito iscrivervi al canale e vi aspettiamo fiduciosi di intraprendere la vera la vera via la vera via del culturismo naturale che Master ritiene che sia la sua sia la migliore ok grazie a tutti al top